Il derby numero 105 è andato al Milan, ma l'Inter non aveva certo cominciato male l'incontro, andando per prima in vantaggio con Altobelli. Ecco come ci racconta il suo gol. Sono per gol, mi sembra che sia stata una bella azione iniziata da Romagnica, è andata via a un avversario, l'ha messa bene in mezzo, mi si è toffato di testa e è andata dentro, mi è andata bene. Il Milan si butta subito in avanti, l'Idom lo ha predisposto molto bene in campo e l'Inter sembra non riuscire a contenere le manovre rossonere. Bredi gira vuoto e scarseggiano i servizi per Rummenigge. Così arriva il pareggio ad opera di Di Bartolomei. Ecco il racconto fatto dal goleador. Un traversone pari di Wilkins per Virdis, è stato molto bravo a fare un bellissimo assist per me, io sono entrato in corsa dal centro e ho calciato al volo. Ma il gioco resta saldamente in mano ai centrocampisti rossoneri che dalle fasce servono Hattley. L'inglese impegna a più riprese Zenga, qui va in gol, è il 2 a 1. Certamente il centroavanti rossonero meritava questo gol, tanto è stato il suo impegno sino a questo momento.